Quello che posso ribadire è che andremo avanti con il progetto negozio sicuro, ma lanceremo un nuovo progetto e lo dico qui stamattina, ne ho parlato con l'assessore al bilancio Giovanni Bettarini, metteremo 400.000 euro per un progetto sperimentale dei prossimi sei mesi da dare ai centri commerciali naturali, sono tutti quei centri commerciali che vivono nei nostri quartieri per assumere vigilanza armata nelle ore serali e durante la notte a presidio delle strade, dei negozi e delle abitazioni nei centri commerciali naturali. Dopo queste dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, si riaccende lo scontro a distanza tra il primo cittadino e il direttore delle gallerie degli uffizi, Eike Schmidt, che in una nota dichiara Faccio i complimenti al sindaco Nardella dopo una feroce polemica due mesi fa contro l'attivazione di un servizio di guardia armata anti-vandali e anti-imbrattamenti alle gallerie degli uffizi, propose di sostituire con una vaga educazione al bello e al buono nelle scuole Finalmente anche lui è arrivato alla ragione. Le guardie giurate e armate, aggiunge Schmidt, sono attive alla loggia dei Lanzi da molti anni, a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli dall'anno scorso e dopo la recente conclusione di un nuovo bando di affidamento, nei prossimi giorni saranno rafforzate da un ulteriore servizio diurno e notturno anche sotto il loggiato degli uffizi. Immediata la replica del sindaco. Il candidato della destra, Schmidt, dal comitato elettorale della Galleria degli Uffizi, attacca sulle guardie giurate. Le guardie giurate servono per garantire la sicurezza alle imprese e ai cittadini nei centri commerciali naturali, non per circondare i monumenti artistici. Detto questo, Schmidt pensi al suo lavoro, visto che non è riuscito a gestire il problema dell'uscita di Isozaki, dove, al posto del progetto del grande architetto, ha consentito di fare un giardinetto di quartiere. Poveri uffizi, così maltrattati. Ma la polemica non si ferma qui e sembra avere l'ultima parola il direttore Schmidt. Il sindaco Nardella sta dicendo ai cittadini che i negozi meritano sicurezza e protezione, mentre la grande arte, i monumenti che costituiscono il cuore, la storia e l'identità di Firenze e dell'Italia, no, sono parole che si commentano da sole. Meno male che, almeno per quanto riguarda gli uffizi, ci abbiamo pensato noi.